Gentilissimi, ben trovati all'appuntamento di oggi, giovedì 25 novembre. La seduta odierna è stata piuttosto interlocutoria, in una giornata che ha visto Wall Street rimanere chiusa a causa della festività del giorno del ringraziamento. Il Fuzzimib aveva fatto segnare il massimo di giornata nei primi minuti di contrattazione, ma poi la variazione è diminuita al punto tale da rimanere più o meno ancorata alla parità. Sale il DAX, ma anche in questo caso non si tratta di un rialzo piuttosto imponente, visto che l'indice chiude con un più 0,25%. Telecom Italia continua a essere protagonista nel bene e nel male, oggi l'azienda si posiziona in fondo al listino milanese, con un ribasso che supera i due punti e mezzo alla vigilia del consiglio d'amministrazione. Segue Pirelli col suo meno 1,81, poi Inuit a meno 1,70 e infine due bancari che archiviano la seduta quasi appaiati, parliamo di Banco BPM e di Unicredit, che superano di poco il punto e mezzo di passivo. Campari invece ha vissuto un'ottima seduta grazie anche ai conti della concorrente francese Rémy Controux. Bene anche Enel, alla luce della presentazione del piano industriale al 2024. Amplifon finisce per guadagnare l'1,31%, variazione molto simile a quelle di Prismian e Mediobanca. Timide variazioni percentuali anche sul comparto valutario, euro-dollaro sale di poco, tanto basta per mantenersi sopra quota 1,12. Moderato anche l'andamento di cross quali euro-sterlina ed euro-yen. E ora chiudiamo con l'intervista a Giacomo Moglie. Salve a tutti, per le interviste di Traderlink, ospite di oggi Giacomo Moglie, analista tecnico. E con lui vedremo quello che sta succedendo in un momento molto particolare sull'indice italiano. Allora, una risposta che può essere indicativa, la lascio a te. Ben trovata Rossana, seduta senza particolari abrivi direzionali, quella di quest'oggi di piazza Affari sin qui con Wall Street chiusa per festività. Un guizzo rialzista in apertura sulla scia della seduta positiva di ieri di New York, poi piazza Affari in parziale sollievo, ma già da ieri pomeriggio, pur reduce da un ridimensionamento di mille punti visto nelle cinque sedute precedenti. Questo ha complicato, secondo i nostri modelli, il quadro tecnico come anche su altri indici europei in riscontro in questo momento e prezzamento della recrudescenza pandemica e quindi timori pandemici che hanno riportato una folata di debolezza sugli indici europei. Debolezza al capolinea, la domanda di quest'oggi, non ci sono ancora elementi per supportarlo, dato che venerdì, con l'intercettazione in debolezza dei 27.400, diciamo in osservazione del grafico del Fuzzimib espresso con candele giornaliere, si è avuto, secondo i nostri modelli, l'epilogo della precedente indicazione rialzista partita il 25 ottobre e l'apertura di una speculare ribassista arrivati alla test del secondo livello dinamico. A questo punto, tuttavia, l'indicazione resta ancora in corso di validità, secondo i nostri modelli. A dire la verità, è già anche il quadro tecnico, tattico settimanale sul nostro indice, passando la ricognizione nel quadro settimanale. Venerdì scorso ha identificato una configurazione di relativa debolezza da individuare ora come epilogo delle aspettative positive di calibro tattico settimanale. Dunque, venerdì 19, allora è andata in revisione la nostra visione sul nostro indice. Un contesto attuale, da ieri pomeriggio e quest'oggi, di sollievo, dicevamo, di recupero, in relazione all'S&P 500. E qui andiamo a fare un raffronto con l'indice faro dei listini azionari mondiali, nella misura in cui, qui siamo in ricognizione, in osservazione del grafico espresso con pandelli giornalieri, i nostri modelli hanno visto lunedì 22, un'indicazione di debolezza rispetto al test fallito di superamento di 4,725, poi martedì 23, indomani invece, a stretto giro, l'indicazione di un ritorno in forza relativa tenuta del primo livello dinamico. Questo individuo ha una tenuta sostanziale di Wall Street per il momento con stop e revisione di apertura di ribassista, questa divisione ribassista di breve a 4,6 e 52, al di sopra siamo ancora in relativa tenuta. Ma, e qui il punto che chiude il cerchio, l'osservazione settimanale su l'S&P 500 dirimente questo fine settimana, nella misura in cui un epilogo al di sotto di 4.712 darebbe il primo scricchioli e la prima indicazione di possibile invece chiusura dell'indicazione di positività di Wall Street. Ecco, quindi rispetto a quanto visto nella settimana scorsa, dunque, di debolezza a modo proprio degli indici europei, a questo punto la prosecuzione della debolezza degli indici europei è affiancata e linkata a quella che è la condizione tecnica di brevissimo dell'S&P 500, andremo dunque ad effettuare questa verifica che darà l'aspettativa per le prossime sedute. A te Rossana. Perfetto Giacomo, ti ringrazio per l'ampia panoramica con te, rimando appunto l'appuntamento alla prossima volta. A voi. Per oggi è tutto, prima di concludere vi ricordo che potete consultare tutti i nostri contenuti aggiornati sul canale YouTube di Traderlink, su Traderlink Web e sulla nostra app. Grazie per l'attenzione e arrivederci a domani. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.